Parto di radioterapia dell'ospedale di Biella. Il dottor Gregorio Moro, dei locali nuovissimi e ovviamente anche apparecchiature avanguardia. Questo acceleratore lineare comprende in pratica una TAC integrata che consente di controllare quotidianamente o comunque tutte le volte che si ritiene opportuno la posizione del bersaglio tumorale prima che la macchina eroghi le radiazioni. In altre parole, questo sistema visualizza il bersaglio. Se ci sono delle correzioni da fare, vengono automaticamente fatte dal movimento del lettino. Successivamente, nel momento in cui viene raggiunta la posizione desiderata, la macchina emette le radiazioni e va a colpire il bersaglio.